Ciao a tutti, qui abbiamo quella che era rimasto ieri, 25 euro totale, due 20 per e cinque numerissimi. Ok, iniziamo con i 20 per, prima di iniziare, che questo è un video di intrattimento, quindi vi è dato i minori di 18 anni. Ok, iniziamo, 20 per. Ok, 35, 30, 18, 14 per 10, 19, si vede. Ok, primo numero 24, 34, 21, 41, 23, 22, 11 niente, 26, 37, 36, l'ultimo fila, 12, 28, 29, 32 e l'ultimo 1,6. Ok, niente, seconda, ok, diamo, 36, 38, 25, 28 per 10, 24. Ok, primo numero 43, 14, 39 niente, 26, 11, 29 niente, neanche 27, 44, è sempre 40, 42. 17, mamma mia, 31, come on baby, 37, 35, 36, 23, l'ultimo, 34. Ok, passiamo a numeri fortunati. Andiamo qua, ok. Primo numero, recuperiamo qua dai, speriamo, primo numero 60, 74, non c'è, 38, questo è facile grattare, eh, 37, non c'è, 37, 59, neanche 59, 34, eccolo qua, 11, dai, 6, 3, 24, 12, 15, 51, 35, eccolo qua, 26, no, 50, ultimi 3, 44, 54, ti sa, vera, 24, l'ultimo, niente, 80, terzo, finito, ok, seconda, passiamo, sempre i numeri fortunati, 45, 40, 56, questo è un bel inizio, ok, 77, 65, mi piace così, 37, 46, 14, 30, 25, 25, 21, da questa parte, dai, 80, niente, 12, mamma mia, 24, così mi piace, amici 73, 20, 73, 53, 33, questi 3 euro, teneneneo, teneneneo, 5 euro, poi va bene, va bene, sempre i numeri fortunati, primo numero, 15, vedo che facciamo un po' più grande, 15, 35, eccola come prima, vai, 52, non c'è, 64, 64, 64, 64, 18, questa non va bene, 20, non c'è, 36, eccola qua, 48, 48, 40, eccola qua, 80, sempre con 0, 0, 0, 0, dammi 30, 28, 14, eccola qua, 76, niente, 27, 65, e l'ultimo, 50, mamma mia, 33, non c'è, ok, tutti perdenti, ok, primo numero, rimaste altri due, 76, 72, così mi piace, questa era vincente, 48, 58, 43, eccola qua, 25, sì, mi piace, me lo sento, quando mi piace la cartella, ok, 56, non c'è, double 3, 33, 69, niente, 42, eccola qua, 59, 36, sotto, 6, 6, 7, eccola qua, 24, 24, 29, 35, 50, ormai, 41, 34, 34, 34, qua tutto, ok, vediamo quanto è il premio, sempre 5, va bene, mi sa che oggi perdiamo, ok, l'ultimo è speranza, primo numero 25, 75, 78, 40, 40, 40, non c'è, 74, 19, sì, 31, 35, eccola qua, 38, sempre questo, da questa parte, 54, ok, 32, niente, ok, 60, 75, come on baby, no, contrario, 55, l'ultimo, 76, l'ultimo, 76, l'ultimo, 21, dai, 34 baby, 42, ok, niente, come il solito, soltanto questo 10 euro, ok, abbiamo perso 15, mi dispiace anche quella di ieri, che ho perso qualche numero, che ho lavorato dopo il lavoro, sono andato a grattare, gratta e vinci, grazie, ok, ci vediamo alla prossima, ciao!